Io non c'ho parole ragazzi, cioè in realtà dovrei fare le prove, ma poi ti fa tutto sto disastro. Ci sono i fan più belli del mondo, grazie. Grazie, grazie. Dopo la valanga di Auguri Social, Emma Marrone riceve una sorpresa per il suo compleanno, mentre impegnata con le prove del tour viene intercettata dai fan che le organizzano una mini festa per i suoi 37 anni. Non solo, anche il suo corpo di bello le fa trovare la torta, una giornata bellissima per la cantante salentina. Grazie. Grazie.